eccoci ciao bentornati alla live del martedì sera questa è la seconda quella delle 22 30 quella dove parliamo un po un po di tutto questa sera parleremo di facebook non si preoccupino gli amici dei siti internet perché torneremo a parlarne qualche volta probabilmente inregistrata ho già fatto anche una pagina del sito se andrete a vedere troverete qualcosa di diverso questa sera però ci occupiamo di facebook proviamo a trafficare un po con facebook è tanto tempo che non ne parliamo vediamo un po che cosa che cosa si può dire spezzo una lancia a favore di facebook so che molte persone lo non lo vogliono assolutamente fare fanno fatica diciamo tra virgolette mettere in piazza i propri affari io sono stato uno di queste per per lungo tempo poi di fatto anche per questioni di lavoro chiaramente devo esserci ma devo dire che ha un suo perché per cui possiamo usare facebook e se siamo persone molto riservate evitare di scrivere cose nostre e pubblicare cose nostre però ormai è una realtà che non si può più ignorare facebook e tutti i social che ci sono che ci sono sempre su su internet per cui dobbiamo imparare un po alla volta a trovarci ed averci ed averci a che fare bene passo alla schermata di lavoro perché andiamo subito a vedere di cosa parliamo questa sera facebook si ma cosa ci diciamo allora ecco qua che sono allora mi aspettate che chiudo questo browser e apro il mio solito google chrome e siamo arrivati su su internet bene allora andiamo su facebook quindi io vado su facebook www.facebook.com il computer lo scrive da solo e arrivo sulla pagina facebook pagina facebook alla quale vi invito di iscrivermi se siete su facebook venite a trovarmi cercate daniele castelletti e venite a trovarmi sulla mia pagina lì sopra metto sempre tutti i messaggi inerenti a tutti quanti video quando esce un video e via dicendo per cui se ancora non l'avete fatto io dico sempre iscriviti al canale youtube ma vieni anche a trovarmi metti un mi piace anche alla pagina facebook perché anche quella è un modo per stare per stare insieme insomma bene allora quello di cui vorrei parlare questa sera è arrivare tra le altre cose a cancellarmi da facebook perché voglio arrivare tra le altre cose perché faremo anche altre cosette a cancellarmi da facebook perché può capitare capita che ci sono delle persone ne ho conosciute personalmente ecco persone magari con poca esperienza che accidentalmente si iscrivono due volte per cui persone che figurano su facebook due volte magari con la stessa foto comunque sono sempre loro e figurano due volte e quindi una delle due volte una delle due delle due pagine va va tirata via perché non vorrei esserci due volte allora intanto entro così 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 poi cominciamo a parlarne usandolo ora io mi sono iscritto appositamente nel pomeriggio con un nome diverso perché questa iscrizione poi la cancellerò e quindi non volevo andare intaccare le mia la mia pagina pagina facebook reale e quindi cosa ho fatto ho fatto quello che fa qualsiasi persona quando si collega a facebook di fatto ho compilato questa schermata qui quella che alcune volte alcuni di noi hanno compilato accidentalmente una seconda volta dopo essere già iscritti quindi ho messo nome cognome indirizzo email e una password allora io per già come daniele castelletti figuro su facebook un sacco un sacco di volte tra poco vedremo per cui mi sono iscritto con un nome con un nome di fantasia perché dicevamo che poi vado a cancellarlo attenzione al discorso del numero di cellulare il numero di cellulare che eventualmente va inserito qui mi è stato chiesto posso togliere voglio sganciare il mio numero di cellulare da facebook è molto è molto difficile riuscire a tirarsi fuori dal numero di telefono una volta che gliel'avete dato per cui piuttosto non diamoglielo quindi questo è uno dei campi il numero di cellulare posso anche non metterlo metto l'indirizzo email che quello magari mi disturba meno se resta collegato a facebook perché successivamente potrei anche abbandonarlo potrei anche cambiarlo mentre il numero di cellulare è molto personale quindi magari non non voglio non voglio lasciarlo non c'è niente di male avere lasciato il numero di cellulare perché comunque si può regolare il fatto che vi mandi messaggi oppure no e quindi vedremo per quindi di fatto nel nel pomeriggio io ho compilato questa schermata ho inserito la password ho inserito una nuova email perché non ci si può di fatto iscrivere a facebook due volte e quindi bisogna usare due email diverse e quindi ho usato una nuova mail e mi sono iscritto ora entro in facebook lasciando perdere tutta questa parte qua quindi questa zona qua una volta che io sono iscritto non serve più assolutamente a nulla e non è da compilare assolutamente altrimenti ci iscriviamo nuovamente e devo solo scrivere qua la l'email era corso tablet 5 chiocciola gmail.com che ho usato e adesso inserisco la password vediamo se me la ricordo già da oggi pomeriggio l'ho scritta naturalmente come sempre dovremmo fare premo accedi ho premuto invio sulla tastiera che mi fa accedere e mi trovo all'interno della mia pagina mi sono iscritto come dante cacciotta come nome di fantasia e qui ho delle delle foto ho di fatto messo una foto di profilo che è il mio gatto rubino potevo chiamarmi rubino effettivamente e poi questa questa ninfea del lago di mantova come foto di copertina se vado su home si dovrebbe si dovrebbe vedere anche se non voglio andare troppo in giro perché a volte escono nomi di possibili amici che potrei conoscere e non vorrei pubblicizzare magari persone che non che non vogliono essere viste anche se questo è facebook ed è un mondo pubblico quindi tutto quello che c'è qui è pubblico bene allora la una delle delle prime cose che vogliamo fare noi ci siamo iscritti a facebook e da questo momento in poi cerchiamo degli amici ave scusate prima vi faccio vedere la mia presenza su facebook come daniele castelletti daniele ecco tutte queste queste persone che ci sono qui io non conosco appaiono perché sono su facebook e mentre comincio a scrivere il nome lui cerca i vari daniele che ci sono su facebook allora castelletti vediamo ecco daniele castelletti ce ne sono vari non ci sono solo io per cui saluto gli altri che non conosco del resto ci sono due volte ci sono come persona daniele castelletti e come pagina daniele castelletti quindi nel mio caso io mi sono mi sono iscritto due due volte perché non in realtà non mi sono iscritto due volte adesso vi spiego il mistero allora io sono iscritto a facebook questa persona daniele castelletti è iscritta facebook qui ho i miei amici per cui anche voi se volete chiedetemi chiedetemi l'amicizia che chiaramente chiaramente ve la do e quindi li scrivo cose mie non sono uno che scrive tanto su facebook perché vorrei tra virgolette essere un po riservato anche se ormai c'è la mia foto su internet da tutte le parti perché ogni video ha la mia foto però quella è la mia pagina facebook quella con cui in cui scrivo cose tra virgolette a volte anche personali quindi io vado spesso a gare di go kart e via dicendo perché mio figlio corre quindi li scrivo queste queste cose qui poi c'è la possibilità per tutti di avere una pagina cioè di avere una presenza su facebook come come ente tra virgolette come in questo caso io come insegnante come daniele castelletti insegnante per conto associazione maggiolina ho una pagina ci può essere la pagina degli amici degli animali ci può essere la pagina di che ne so di dei mantovani ci può essere la pagina di dei fan di di qualche cantante di madonna diciamo e quindi una pagina non una persona la pagina della biblioteca e quindi una presenza su facebook non necessariamente legata a una persona nel mio caso io ho aperto la pagina e ho voluto chiamarla daniele castelletti comunque perché perché mi rappresenti per per i video che ci sono su su youtube e quindi e quindi siamo siamo qua il figuro due volte per cui se volete solo avere che fare per i video voi vi iscrivete a questa pagina qui cercate questo daniele castelletti dove c'è la mia foto quella ufficiale del sul canale maggiolina e li passano solo cose relative ai video se invece volete sentire anche qualcosa d'altro mi chiedete l'amicizia dall'altra parte per cui qui semplicemente sulla pagina basta che diciate mi piace e quindi automaticamente siete siete entrate nel gruppo qui invece chiedete l'amicizia come come per tutti io poi dovrò confermarla ma naturalmente ve la confermerò e e vedete anche le mie cose personali se 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 vi interessa vedere anche questo quindi questa è una prima cosa torniamo ad azzerare qui allora noi siamo nella nostra pagina facebook una prima cosa che mi succede dopo che mi sono iscritto è quella che cominciano ad arrivarmi un sacco di email un sacco di notifiche quindi di messaggi da parte di facebook mi manda un'email per dirmi il nostro amico ha detto qualcosa il nostro amico ha messo su una una foto ed è tanto che non vieni su facebook e via e via dicendo per cui queste cose un po ci possono scocciare perché magari arrivano sul cellulare oppure mi si riempie l'email di notifiche che che non vorrei le vedo le leggo quando vedo su facebook quando vengo su facebook personalmente vedo qui in questi in queste icone appaiono dei numerini quelle sono le notifiche le richieste di amicizia i messaggi e quando l'amico scrive o dice o dice qualcosa e allora insomma dice ma l'email nuova l'hai creata con un nome vero certo si può con si può creare tranquillamente più di una di un'email con con il nome con il nome vero volendo anche e si può anche con un nome fasullo e nessuno lì che guarda se lo fai oppure no però andrebbe fatto con col nome vero allora vedo che ricevo una richiesta di amicizia allora attenzione e quindi io dovrei cliccarci su e confermare e in questo momento non la faccio ecco che ci sono i nuovi messaggi quindi queste sono notifiche che che arrivano quindi io qui adesso non confermo nulla perché poi questa pagina questa questo dante cacciotta qui il nome di fantasia lo cancellerò perché alla fine della serata vogliamo arrivare a vedere come ci si cancella da facebook e quindi però queste sono notifiche per ognuna di queste notifiche quindi una richiesta di amicizia un qualcuno che scrive qualcosa mi arriva un messaggio sul cellulare mi arriva un email nel computer e potrebbe infastidirmi tutta questa attenzione da parte di facebook quindi prima cosa vediamo come come tolgo queste notifiche vado su questa freccia vado su impostazioni quindi questo è un menu che mi permette di gestire il mio facebook vado su impostazioni e faccio delle regolazioni per quanto riguarda le notifiche che ricevo vado in notifiche quindi questo ha a che fare con i messaggi che ricevo e da qui posso disattivare eventuali notifiche allora gli sms non li ricevo perché io non ho fornito il mio numero di telefono per cui semplicemente non non lo ricevo via computer dispositivi immobili ricevo alcune notifiche via email la maggior parte delle notifiche se io non le voglio ricevere vado modifica sulle email e dico che non voglio ricevere notifiche eccolo qua disattiva le notifiche tramite email relative ai commenti aggiunti e tutto quanto e qui dico solo le notifiche sul tuo account disattivando qui mi chiede conferma di disattivare disattivo tutte tutte le altre allora Enzo dice email con gmail qualsiasi indirizzo email Enzo ti serve un indirizzo email per registrarti a facebook io ho utilizzato gmail in questo caso bene quindi tornando a noi sono andato sulle notifiche sono andato sulle notifiche email ho detto questo cosa riceverai qui ho scelto qui mi diceva tutte le notifiche tranne quelle che scegli di non ricevere e io invece gli ho detto no solo le notifiche sul tuo account su sicurezza e privacy cioè solo quelle più importanti che sono che sono molto poche poi ho disattivato i vari commenti di modo che quindi di modo che io non mi trovi ad avere tutte queste tutte queste notifiche per cui in questo modo ho spento le notifiche sui cellulari sulle email e sono e sono a posto Davide dice ma è proprio così impossibile eliminare il numero di telefono se cancello l'account di facebook allora se io cancello l'account di facebook ovviamente se ne va anche il numero di telefono però io magari voglio tenere il account di facebook ma non voglio che ci sia il mio telefono allora solitamente dare un numero di telefono quando si ottiene un account come nel caso di google o youtube di google e via dicendo è utile dare il numero di telefono perché ci aiuta a essere riconosciuti da chi gestisce il nostro account se dimentichiamo la password per cui anche da facebook sarebbe utile però facebook sappiamo che rinunci a parte della tua privacy e quindi magari non mi fa piacere dare il numero di telefono per cui in molti account lo do perché è utile sarebbe utile anche a facebook ma finora non me la sono ancora sentito di darglielo ho sentito varie persone che hanno voluto togliersi e poi diventa difficile posso nascondere il numero di telefono in modo che le persone non lo vedano però facebook lo sta lo stesso e quindi lo usa per le sue per le sue cose allora chi ecco katia dice chi può vedere mi piace e i miei post non so gestire la privacy bene e qua e qua ci siamo privacy si gestisce da qua quindi abbiamo disattivato le notifiche da qui vado in privacy quindi gestisco chi mi vede chi può vedere le mie cose ecco qui chi può vedere le mie cose e tutto quanto per cui di fatto quando io scrivo qualcosa su facebook chi lo vede è quello che ci domandiamo qui allora chi può vedere i tuoi post futuri perché quelli vecchi ormai sono già andati in questo caso i miei amici e qui posso vuoi limitare il pubblico dei post che hai condiviso con gli amici cioè da qui posso gestirmi sì posso andare su modifica e posso dire che i miei post li possano vedere tutti solo i miei amici oppure ci sono delle altre opzioni e posso solo io oppure posso personalizzare quindi da lì ora questa la chiudo io regolo di fatto chi può contattarmi tutti solo gli amici solo e via dicendo teniamo conto di una cosa che noi qui stringiamo la privacy se vogliamo diciamo no quello che scrivo io lo posso vedere solo i miei amici e poi però ci sono gli amici dei miei amici che magari possono andarlo a vedere e quindi si cerca di gestire la privacy mettendo vari paletti a me è capitato di vedere in passato non so se sia stato un caso e quindi un caso fortuito che o un mio o io che abbia lavorato male che avevo impostato tutti i vari paletti secondo una certa modo poi c'è stato un aggiornamento e tutti questi paletti sono stati riportati allo standard per cui la prima privacy siete voi se c'è un qualcosa che non si deve sapere non si scrive non si pubblica su facebook considerate che quello che dite lo dite al mondo al di là del fatto di poter chiudere chi non chi vede chi non vede via dicendo quello che voi scrivete lo scrivete al mondo e quindi considerate che chiunque lo possa vedere magari non domani ma tra un mese via dicendo quindi comportatevi come se fosse se è una cosa riservata che non potete dirla a chi alla prima persona che passa per la strada non scrivetela in facebook perché alla fine va a finire così questo diciamo è il primo la prima cosa che si può fare poi posso mettere in pratica tutte queste queste funzioni queste funzioni qua allora vediamo cosa dice la chat allora maria dice mi è capitato di ritrovarmi di un'amicizia che non avevo richiesto ne avevo accettata come è possibile anche se poi me la tolgo allora non sei la prima maria che mi dice questa cosa non so dirtelo o è stata data o richiesta accidentalmente oppure c'è effettivamente qualcosa che non quadra l'ho sentito dire abbastanza spesso io però frequento sempre persone principianti per cui l'errore ci può ci può stare anche se anche a me è capitato una volta una cosa del genere per lo meno non ricordavo di aver dato una tale amicizia e mi dico ma siamo amici come sarà successo non ti so dire come collegare facebook del pc a quello del telefono allora chiede mustafa come collegare facebook del pc a quello del telefono semplicemente andando su sul telefono digitando la stessa email e quindi io avevo corso tablet 5 chiocciola gmail.com e la stessa password che hai usato per il pc e quindi il facebook è sempre quello non è nel pc e non è nel telefono è su internet il pc e il telefono sono due mezzi diversi per vedere la stessa cosa quindi fornendo le stesse credenziali stesso nome utente quindi nel mio caso l'email stessa password vedi lo stesso facebook in definitiva siamo 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 qua quindi da qui regolo le mie la mia privacy chi può vedermi chi non può vedermi anche se vi dico attenzione perché in definitiva alla fine tutti tutti vedono tutto in una in un modo o nell'altro ok quindi la prima cosa che si fa quando si usa facebook di solito si viene nelle quando ci si è appena iscritti a facebook di solito si viene nelle notifiche e ci si 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 disattivano le notifiche che ci infastidiscono in particolar modo tutte le email perché ne arrivano a milioni quando cominciate a avere un po un po di amici va bene questo qui era una discorso un discorso extra diciamo adesso vorrei che ci muovessimo verso quello che è il nostro il nostro obiettivo quindi quello di arrivare arrivare a cancellarci da facebook perché abbiamo una seconda iscrizione o perché ci siamo stancati di usare questo mezzo vorremmo andare via senza come dire senza lasciare traccia anche se senza lasciare traccia è impossibile però insomma lasciando meno cose in giro possibile ecco una cosa che potrebbero voler fare tutti non solo chi ha in previsione di andare via da facebook lo fa chi ha in previsione andare via da facebook ma potremmo volerlo fare tutti è un backup dei nostri dati cioè un salvataggio di tutte le foto che abbiamo messo su facebook di tutti mi piace di tutti i commenti dei vari post cioè della nostra vita social vorremmo fare un salvataggio perché magari ci sono foto che mi ha mandato l'amico me l'ha mandata solo su facebook e è solo lì nel momento in cui facebook non lo uso più lo lo perdo e quindi e quindi è un è un peccato in sostanza per cui faccio un salvataggio delle mie delle mie informazioni va bene come si fa vediamo ho preso anche appunti è perché certe certe funzioni sono disponibili ma non hanno evidentemente piacere che siano facili da fare perché tipo cancellarsi da facebook non vogliono che noi ci cancelliamo perché è una persona è una persona in meno voglio fare un backup dei miei dati che sia perché ho intenzione di cancellarmi che sia per qualche altro motivo voglio salvare i miei dati su di facebook salvarmeli nel mio computer così avere copia delle mie foto e di tutto quanto come faccio vado in impostazioni quindi allora partiamo vado dalla freccina vado in impostazioni e adesso arrivo in questa questa è la prima pagina ripartiamo da capo facciamo così siamo sullo schermo principale di facebook e siamo qua ora desidero andare a fare questo backup quindi parto dalla mia freccina questa è quella che comanda tutto in in definitivo in definitiva e vado in impostazioni poi vado qui scarica una copia dei tuoi dati di facebook clicco su scarica una copia dei miei dati di facebook di modo che facebook mi darà una copia della mia della mia vita e ci siamo vado su scarica archivio bene ora facebook vuole essere sicuro che sia io a chiederlo quindi mi chiede la password che vado a digitare allora e dico invia quando io ho chiesto di scaricare l'archivio facebook me lo ha scaricato subito ed è stranissima questa cosa perché di solito ed è questo qua il mio archivio eccolo qua sotto di solito facebook non ve lo scarica subito perché voi avete fatto tante cose magari su facebook anche se io ancora non le ho non le ho fatte perché questa è una nuova iscrizione comunque ipotizziamo di averci di averci vissuto tanto su facebook e quindi di aver fatto tante cose lui ha bisogno di tempo per raccogliere tutte le cose che avete fatto infatti oggi pomeriggio quando ho fatto la prova di queste cose che ci diciamo qui stasera mi ha mandato un'email mi ha detto qua mi ha detto senti ok tu mi hai dato mi hai dato la richiesta di di scaricare i tuoi dati mi devi dare del tempo perché io li prepari li preparerò quando saranno pronti riceverai un'email che ti dice che questi dati sono pronti potrebbero volerci anche dei giorni perché se hai usato tanto facebook potrebbe aver volerci anche dei dei giorni allora vediamo queste mail apro un'altra schermata vado su gmail di modo che ne parliamo quindi io vado nelle nelle mie email vediamo cosa succede e in social eccola qua vado su social questa è l'email forza social ecco questa è l'email ecco richiesta di download da facebook per cui nel pomeriggio alle quindici e quarantuno oggi ho richiesto di scaricare i miei dati e mi è arrivato questo messaggio dove tra le varie cose mi dice guarda che tutti i tuoi dati verranno raccolti verranno preparati per essere scaricati successivamente dopo un po di tempo mi è arrivata un'altra email il tuo download da facebook è pronto ci ha impiegato pochissimo perché non avevo messo su niente io su facebook però in alcuni casi potrebbe volerci anche potrebbero volerci anche dei dei giorni allora rossella chiese si possono mandare post anche se non sia l'amicizia e certo puoi mandare post sul tuo sulla tua pagina facebook puoi puoi pubblicare dei post alle altre persone puoi mandare un messaggio dipende da come è regolato l'altra persona cioè tu di solito puoi chiedere di mandare un messaggio oppure puoi mandare un primo messaggio ma la persona potrebbe poi rifiutare nel legge 1 e poi e poi basta cliccando qua sopra quindi tornando al nostro discorso quindi a un certo punto è arrivata l'email dove mi dice che cliccando qua sopra io posso scaricare i miei dati ci clicco su ed ecco che siamo arrivati dove eravamo arrivati prima scarica archivio e riceviamo i dati questi dati sono questi qua sopra arrivano sotto forma di file zip e sono tutta la nostra vita su facebook vogliamo andarla a vedere allora apro esplora file vado in download perché è lì che vengono scaricati qui c'è un sacco c'è un sacco di roba tra cui anche i file zip di facebook questi qui sono identici scaricati accidentalmente due volte perché non mi ero accorto la prima volta di averlo scaricato lo apro vediamo se me lo apro e ci sono dentro queste queste cose qua questo index adesso vi faccio vedere che cos'è è una pagina che racconta la mia storia dante cacciotta profilo indirizzo email quando mi sono iscritto uomo e via dicendo tutto quello che è stato che è stato fatto e quindi la storia di facebook di questa di questa persona torno line esplora file in foto trovo le varie foto andiamo a vederle ed eccole qua qua adesso apparirà o la foto di profilo o la foto del diario eccola qua questa era la foto del profilo e quindi tutto quello che io ho fatto su facebook viene raggruppato in un file zip che successivamente in un file compresso che successivamente io posso aprire e guardare quindi lo scarico come archivio personale principalmente mi interessa per per le foto che vado a scaricarmi ok allora andiamo avanti per la nostra strada come faccio ad eliminarmi da facebook io potrei voler fare due cose potrei dirmi va bene ho intenzione di eliminarmi da facebook però calma perché quando mi sono eliminato da facebook a zero tutto sparisce tutto perdo tutti gli amici quindi non 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 ci sono più devo ricominciare da capo allora potrei dirmi oh senti sono momentaneamente stressato da facebook sono momentaneamente stressato da facebook mi metto in pausa scompaio un po' da facebook per un po' di tempo e successivamente e successivamente posso comunque decidere di tornare indietro quindi eliminare l'account vuol dire scomparire per sempre disattivarsi vuol dire mettersi in pausa finché ci si sente pronti a tornare se si vuole tornare oppure si resta definitivamente fuori vedevo Daniele che mi diceva giustamente mi aveva mandato questo messaggio prima non l'avevo visto se il computer è usato da più persone come faccio a vedere solo le notifiche di facebook solo io le notifiche di facebook perché tu entri in un'area privata in facebook o nella tua email con una password per cui se le altre persone non hanno la password non possono non possono vedere insomma e quindi non c'è un problema di privacy se non dici la tua password agli altri cominciamo a provare a disattivarsi perché il tempo è un po' il tempo corre vorrei arrivare a aver finito l'argomento comunque allora ci disattiviamo vado come sempre sulla mia freccia perché questa in definitiva è quella che fa tutti i comandi vado su impostazioni e finora abbiamo sempre fatto così vado su protezione eccola qua sopra protezione benissimo e poi anche qui ho preso appunti vado su disattiva account ed eccolo qua disattiva il tuo account ci clicco sopra e nuovamente dico disattiva il tuo account quindi sto chiedendo di togliermi da facebook qui mi dicono ma come mai perché vuoi toglierti da facebook ci sono varie scelte e io dico qua si tratta di una misura temporanea ok e lui comincia a dire desideri disconnetterti anziché disattivare l'account cioè vuol dire vuoi uscire da facebook senza disattivarsi no allora questo chiudiamolo io desidero disattivare l'account e lui comunque comincia a dirti allora dai ti riattiviamo automaticamente tra sette giorni no e niente qui lo lascia lo lascia fatto lo lascia fatto così va bene dai allora gli diciamo anche non capisco come si usa facebook e lui mi dice ma ricevi assistenza no allora gli dico altro voglio disattivarmi quindi vedete che fanno disattivarmi fanno fatica a lasciarvi a lasciarvi andare e quindi ci siamo e dico disattiva in definitiva dico anche non ricevere email da facebook in futuro senti disattivami e stop e dico disattiva confermi di voler disattivare il tuo account si disattivo ora e di fatto mi butta fuori da facebook e mi dice il tuo account è stato disattivato quindi adesso io su facebook non esisto più però con questo dante non esiste più però facebook ha tenuto il mio account tutti i miei dati da parte non li fa vedere non non è più possibile trovarmi non è più possibile mandarmi messaggi non è più possibile chiedermi l'amicizia perché sono sparito però il giorno in cui io dovessi tornare in facebook posso rientrare quando quando voglio e adesso ci proviamo quindi ora sono fuori vado su google ho finito il mio account è disattivato faccio un periodo senza usarlo poi tutto sommato nostalgia voglio tornare benissimo vado su facebook www.facebook.com digito la mia digito la mia email digito la mia password dico accedi e in questo momento riaccedendo io riattivo il mio account quindi se mi ero disattivato il momento in cui accedo vediamo se ho premuto male ecco il momento in cui accedo torno dentro a vedere le mie cose ed eccomi qua che sono dentro ma al contempo cioè nello stesso tempo riattivo il mio riattivo il mio account quindi sono tornato su facebook di fatto e ritrovo tutte le mie cose però con il disattiva può essere un modo per dirsi vabbè lo sto usando troppo oppure ci sono persone che mi danno fastidio senti basta mi ha un po' stressato mi disattivo ma non sparisco completamente cioè sparisco dal mondo facebook ma non mi sono cancellato e quindi posso posso rientrare successivamente in in facebook in un altro in un altro momento quando quando io quando mi è passata e quindi voglio voglio tornare e questo è un discorso ma noi siamo decisi a cancellarci da facebook volevo rispondere prima un attimo a daniele che diceva ma tutti se un'altra persona usa il mio computer viene su facebook fa così per dire un'altra persona siamo su google va su facebook facendo www.facebook.com e vede le mie cose perché perché è questo è facebook ci siamo già eh sì aspettate che faccio pulizia di cancello una schermata è vero daniele però tu tu devi uscire da facebook cioè quando hai finito di usare facebook devi cliccare qui e poi dire esci in questo modo sei uscito da facebook per cui quando una persona ora simuliamo la cosa chiudo tutto inizia a navigare sul tuo computer e eh digita facebook www facebook.com lo trova chiuso per entrare c'è bisogno di digitare l'email e la password che devi conoscere solo tu in questo modo le tue notifiche e le tue cose restano restano private per te sempre esco dall'account per chiudere a chiave con la password il mio account stesso allora vedo che mi chiede Enzo ma l'email la cancelli? no se io mi tolgo da facebook l'email non voglio cancellarla perché la uso per ricevere le email quindi chiudo solo la mia registrazione a facebook ma tengo aperta l'email personale magari per altre cose quindi quella non viene cancellata Alfonso dice come si fa a cancellare un messaggio privato da facebook dal momento che i messaggi restano per lungo tempo alla portata di tutti beh se è un messaggio privato lo vedi solo tu nel tuo facebook con la tua password e quindi e quindi lo vedi solo tu lo puoi cancellare e in teoria l'hai visto solo tu diverso è per i post ma ne parleremo in un secondo in un secondo momento allora com'è possibile avere un'amicizia ad esempio quando vedo la chat di messenger di facebook per vedere una persona che non ho tra gli amici come disattivarla vedo che questa cosa di facebook chiama chiama tante chiama tante domande se non ricordi la password la posso recuperare certo che si vediamo anche tra qualche anno secondo me si giuseppe secondo me anche tra qualche anno allora dai andiamo verso l'obiettivo della serata che è quello di toglierci da facebook così abbiamo seguito un discorso e l'abbiamo chiuso la settimana prossima torniamo a parlare di facebook e quindi vedremo le altre questioni magari mandatemi le email a info chiocciola associazione maggiolina punto it con le vostre domande così che il prossimo video della settimana prossima lo dedichiamo ancora a facebook e ne parliamo quindi vado adesso diretto alla cancellazione dell'account quindi password per rientrare dunque bene stop quindi ho salvato i miei dati ho fatto il backup la disattivazione non è servita non la voglio fare oppure l'ho fatta e ho deciso che mi assenti via mi tolgo definitivamente cosa devo fare allora innanzitutto dovrei andare a pulire il mio profilo quindi a tirare via le cose che a tirare via le cose che che ci ho scritto dentro perché così non lascio tracce in giro anche se comunque la mia presenza su facebook non verrà eliminata definitivamente cioè è impossibile una volta che tu hai scritto qualcosa su facebook alla fine da qualche parte te lo trovi te lo trovi sempre e quindi ci ragioniamo vedo un sacco di domande mi fa piacere ecco quello che mi interessava era quello che scrive Anna e per chi per errore si è iscritto due volte ecco Anna oggi ci cancelliamo e uno dei motivi può essere perché ci sono ci si è iscritti due volte conosco tantissime persone iscritte due volte quindi noi siamo qui e stiamo per cancellarci da facebook e un motivo può essere quello che diciamo prima che mi sono iscritto due volte quindi entro in quel profilo doppio quindi che so il mio Dante Cacciotta è il profilo doppio è quello che ho iscritto due volte lo voglio cancellare in modo da da non averlo più prima di cancellarlo vado a pulirlo quindi vado sul mio profilo vado su Dante e tiro via le mie informazioni quindi vado su foto per esempio e cancello la foto quindi matita e dico elimina questa foto in modo che venga elimina in modo che venga cancellata da facebook poi vado qui altra matita elimina questa foto elimina in modo che venga cancellata da facebook quindi cancello le informazioni che io ci ho ci ho scritto dentro poi vado su informazioni dove avevo magari messo delle altre informazioni che possono essere che so il lavoro dove abito data di nascita ecco qua modifica le informazioni sul lavoro ci clicco e da opzioni dovrebbe esserci elimina e poi dico allora data di inizio rimuovi anche questo salva e quindi dovrei riuscire a eliminare ecco che ho eliminato anche le informazioni sul lavoro e via via su competenze professionali università familiari relazioni avvenimenti importanti e tutto quanto quindi vengo qui e uno alla volta cancello tutte le informazioni almeno quelle più importanti che ho scritto vedete che sono sparite le mie foto e tutto di modo che si lascino meno tracce dentro nel mondo nel mondo facebook del mio profilo non dico che sparirà tutto però intanto facendo così un po' di cose le cancelliamo e adesso definitivamente andiamo a cancellare il profilo e quindi chiudo questo profilo che può essere doppio può essere l'unico ma non lo voglio più mi tolgo da facebook e e ci siamo allora vado dalla mia freccina eccola qui e scelgo vediamo i miei appunti ecco vado dalla freccina e non l'hanno messo semplici da fare perché non si vuole che vi cancelliate accidentalmente da facebook ma soprattutto facebook non vi vuole abbandonare quindi andiamo quindi freccina centro assistenza poi visita centro assistenza qui visita il centro assistenza ed eccolo qua poi scelgo gestione dell'account vediamo dove ce l'abbiamo dovrebbe essere da queste parti qua non ho il cellulare come faccio ad aggiungere un amico dunque a gestione dell'account eccolo lì poi disattivazione o eliminazione dell'account disattivazione o eliminazione dell'account e clicco e clicco lì allora siamo arrivati qua disattivazione dell'account come faccio ad eliminare il mio account in modo permanente come faccio a eliminare il mio account in modo permanente e ci clicco e poi ci siamo vediamo eliminare il mio account in modo permanente comunicaccelo comunicaccelo e lo clicco lì vedete che non è per niente facile elimina il mio account clicco su elimina il mio account devo digitare la password dell'account che desidero eliminare e devo scrivere queste parole qua allora 3 re p t k e poi devo dire ok eccolo qua eliminazione definitiva dell'account il tuo account è stato disattivato e sarà eliminato definitivamente entro 14 giorni se hai effetto e un accesso durante questo periodo avrai modo di annullare l'eliminazione quindi dico ok per cui adesso Dante Cacciotta è sparito da Facebook è stato eliminato momentaneamente è disattivato e dalla disattivazione sparirà in una eliminazione sempre che io entro 14 giorni non digiti nuovamente la password e ci entri dentro questo è il modo che serve per togliersi da Facebook non vuol dire che voi sbattete la porta e non potrete mai più iscrivervi a Facebook Facebook è qua che vi aspetta tutti i giorni senza nessun nessun problema quindi semplicemente disattivo un eventuale account doppio e siamo in tanti ad averlo avuto anche accidentalmente oppure qualcuno che dice basta io mi tolgo da Facebook perché non mi piace più perché ci sono persone che mi danno fastidio perché scusate non voglio più usarlo perché lo uso troppo c'è la via di mezzo del disattivarsi oppure ci si elimina definitivamente ricordatevi prima di eliminarvi di andare a cancellare tutte le varie foto non vuol dire che non esisteranno più però di fatto le avete cancellate qualcuno da qualche parte magari si vedrà ancora ma molte meno che non se doveste lasciarle lasciarle dentro e quindi di fatto adesso siamo fuori da Facebook magari se mi mandate varie email con varie domande proviamo a tornare ancora a parlare di Facebook vedo Agatino che dice caspita è peggio di una caccia al tesoro sì questa eliminazione qui è veramente è veramente esagerata d'accordo non vogliamo eliminarci accidentalmente quindi mettiamo qualche procedura di sicurezza ma qui insomma ne hanno messe tante di procedura di sicurezza bene ragazzi adesso ci fermiamo qua questa chat sarà inregistrata giovedì quella delle 20 sarà inregistrata domani venerdì ci sarà nuovo video che devo ancora registrare per cui arriverò probabilmente anche questa settimana un po' in ritardo vediamo poi domenica parleremo di Python e poi di nuovo martedì ci vediamo in diretta quindi avremo modo di 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 vederci un po' mettete un mi piace se vi è piaciuto il video condividete commentatelo mandate le domande e tutto quanto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché per me è molto importante venite a trovarmi sulla pagina facebook mettete un mi piace chiedetemi l'amicizia perché mi fa molto piacere e ci vediamo ad un prossimo video dell'associazione culturale maggiolina passo alla schermata grande velocemente per salutarvi in schermata grande ciao a tutti e buona serata ciao a tutti